Si chiama Mario Finocchiaro ed è il nuovo questore di Catanzaro. Finocchiaro, 64 anni, catanese, prende il posto di Amalia di Ruocco. Il nuovo questore proviene da Perugia, ma vanta già un'esperienza in Calabria, precisamente alla questura di Crotone. Ho lavorato sempre, tranne una breve parentesi perugina recente, ho lavorato sempre tra la Sicilia e la Calabria, quindi sono realtà che in qualche modo conosco. Conosco, chiaramente la realtà di Catanzaro la devo approfondire e nei prossimi giorni lo farò. È una realtà stimolante, una realtà importante, una realtà interessante, nella quale mi impegnerò al massimo delle mie capacità, delle mie possibilità. Sicuramente con l'impegno di tutti, con la collaborazione in primo luogo, di tutti i personaggi della Polizia di Stato, della Questura, delle specialità, sicuramente raggiungeremo gli ottimi obiettivi, ma chiaramente siccome operiamo in un sistema istituzionale che prevede una serie di, anche di altre forze di Polizia, ma anche di altri organi istituzionali, con in stretta collaborazione e sinergia con tutti quanti, in primo luogo con la Prefettura, con l'autorità giudiziaria, che sono in questa realtà particolarmente impegnati e particolarmente attenti alla realtà, allo svolgimento del proprio ruolo. Sicuramente raggiungeremo gli ottimi obiettivi, l'impegno sarà massimo.